L'Egambiente Alto Cremasco aveva segnalato per primo la presenza di una diga sul fiume Tormo, proprio nei pressi dell'allevamento di storioni tra Pandino e Palazzo Pignano. La presenza di questa diga avrebbe certamente favorito l'azienda per via della qualità purissima dell'acqua di questo fiume. Tuttavia i danni ambientali e i disagi per i residenti della frazione di Cascine Gandini erano evidenti. Il consorzio di bonifica Dunas ha ora autorizzato la creazione di una paratoia scomparsa, ovvero uno sbarramento che si potrebbe aprire e chiudere per garantire lo scorrimento dell'acqua e la quantità sufficiente a soddisfare l'allevamento di storioni. Restano però i dubbi circa la gestione della paratoia, senza sapere chi supervisionerà e se la calendarizzazione delle aperture e delle chiusure che l'azienda dovrà presentare verrà rispettata. Abbiamo appreso che costruiranno entro il 31 questa diga nuova, perché c'è una diga dalla quale non si riesce ad avere notizie sui permessi, e inoltre apprendiamo che il sindaco di Palazzo Pignano vuole da noi dei documenti, vuole incontrarci, noi siamo disponibili a incontrarlo. La soluzione proposta tecnicamente può essere valida, poi però ci sono dei controlli da effettuare che, da come si leggono le normative, sembrano affidati allo stesso gestore e quindi facciamo un po' fatica a capire. Poi ci chiediamo per quale motivo la diga attuale non è stata in qualche modo controllata, perché se quella che c'è adesso avrebbe dovuto comunque lasciare un deflusso minimo vitale per la fauna etica, cosa che non è avvenuta. Sono previsti dei telecontrolli tramite dei datalogger, speriamo che funzionino. La mia domanda è sempre quella, chi controlla chi? Secondo me il controllo definitivo non può essere affidato a chi si gestisce, il controllato non può essere il controllore di se stesso.